ciao ragazzi oggi vi faccio vedere un po di smalti che ho preso della douglas allora c'è la linea metallic la pastel glitter e degli smalti camaleon anche se diciamo non sono contrassegnati però diciamo che si vede allora iniziamo con la linea metallic vi faccio vedere il 770 questo viola metal nickel ed è questo qua molto bello la prima passata molto bella quindi non credo di farci altro lo metto via così tranquillamente poi il prossimo sempre della linea metallic basta che riesca a tirarlo basta che riesca a tirarlo fuori e il 765 metal iron molto bello anche lui a me già piace così quindi non ci faccio proprio niente poi passiamo alla linea pastel ho preso questo perché mi piaceva solo questo 45 405 monoi flower che è questo qua giallo chiarissimo ecco questo una seconda passatina gliela darei perché per il semplice fatto che veramente chiarissimo è vero che già lui come colore chiarissimo però ed effettivamente è un po meglio anche se comunque rimane sempre molto chiaro poi passiamo ai due della linea glitter che ho preso questo è il primo 8 sparking gold 8 8 è praticamente quasi bianco e questo diciamo non è che ne sono contentissima poi poi passiamo all'ultimo glitter che è il 15 che si chiama Glimming Plump che è questo qua molto bello colorato con tutte le varie sfumature ed è questo qua molto molto bello vediamo un po' con la seconda passata che cosa succede ecco qua ancora più bello veramente molto bello questo poi quelli o quelli olografici questo qua che non riesco a capire come cacchio si chiama ah Secret of Cameleon è scritto qua sopra questo si vede che è uno di quelli che è questo verdino poi poi questo che si chiama Secret of Cameleon pure lui ed è questo qua che però la prima proprio passata fa veramente schifo cerco di fare la seconda un po' Grazie a tutti. Ok, e con questo è tutto. Ah, io devo fare attenzione alla videocamera, perché sennò qua mi sfogge tutto di mano. E con questo è tutto, vi ho fatto vedere anche dei bei smaltini, qualcuno sì, qualcuno no, della Douglas. Almeno questi secondo me erano i colori più belli. E con questo è tutto, vi saluto, ciao, alla prossima.